Non c'è la possibilità di recuperare, insomma, anche con la UIL, perché è la UIL che ha fatto la conferenza stampa, di fare un tavolo, di discutere di queste cose, insomma, evitando la querela? Guardi, noi ogni volta che facciamo una riunione con le organizzazioni sindacali per le questioni che riguardano i lavoratori di concessi, invitiamo tutte e tre le rappresentanze sindacali, quindi l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Il problema è la posizione della UIL, cioè non è la mia posizione. Io sono un soggetto dialogante, sempre e comunque, e se gli altri si mettono sulla stessa lunghezza d'onda e lo fanno nella maniera corretta, sono, come dire, porta aperti alla standard, insomma, non c'è nessun problema a dialogare rispetto a queste cose. Ripeto, io l'ho già fatto, perché tutte le riunioni che abbiamo fatto per discutere le questioni dei lavoratori, ha visto presente al tavolo CGL, CIS e UIL. La UIL è quella che non ha voluto firmare fin dall'inizio l'accordo sindacale, non capisco sinceramente ancora oggi il perché a distanza di due anni e mezzo riprende quella vecchia solfa di un consorzio che non funziona, ma i fatti, non io, ma i fatti, mi sembra che dicono ben altro, quindi non capisco la posizione della UIL. Quando la UIL vorrà arrivare a posizioni dialoganti, ripeto, braccia aperte, non c'è nessun problema. Io devo dire con sincerità che la conferenza stampa che hanno tenuto nella sede della UIL, c'era anche il segretario regionale, mi è sembrato un attacco al presidente della regione, Oliverio, per quello che hanno messo in campo, quindi credo che in realtà questo vada detto e è mia correttezza dirlo anche a lei. Sì, una parte del ragionamento va riguardato, come dire, la questione regionale, come era anche giusto che fosse, perché c'è un problema non indifferente sul tavolo rispetto al sistema dico integrato. La regione ha avviato un percorso, deve cercare di accelerarlo il più possibile e deve arrivare alla SIDS. Io quello che ho letto è quello che ho sentito e poi è anche un attacco pesante e violento anche al Congesi. Ed ecco perché ho il dovere e l'obbligo di difendere la struttura che io rappresento. Operate nella legalità perché non volete scendere a compromessi con nessuno. Guardi, lo dico così, siamo un libro bianco, cioè nel senso che dal primo giorno l'impostazione di Congesi è stata un'impostazione nel totale pieno rispetto, come era giusto che dovesse essere poi del resto, della legalità. Non abbiamo fatto, noi abbiamo, i meccanismi dell'appalti si sanno, al di sotto una certa soglia puoi fare l'affidamento diretto, io non ho mai fatto un solo affidamento diretto, anche al di sotto della soglia prevista, io sono andato sempre in gara d'appalto. Qualunque impresa ha operato con Congesi è perché ha vinto una gara d'appalto. Per quanto riguarda invece le questioni che afferiscono ai lavoratori, io sono il consiglio dell'amministrazione, perché in questo devo darle atto, sono quadiuvato alla grande da un vicepresidente e da un consigliere dell'amministrazione che hanno sposato la stessa causa, quindi quello della trasparenza, della correttezza, della linealità, eccetera, eccetera. Noi abbiamo un accordo sindacale che per noi è il Vangelo e da quell'accordo sindacale è derivato una gradottoria. Qualunque assunzione che è stata fatta e viene fatta da Congesi viene fatta nel rispetto di quella gradottoria che prevede anzianità, territorialità, eccetera, eccetera. Quindi quelli sono i concetti, i principi cardini dai quali non abbiamo derogato. Questo non significa che noi non abbiamo commesso qualche errore, ma dove abbiamo sbagliato abbiamo già corretto rispetto all'amministrazione. Grazie.